a a tu giacca fai il video e quale cazzo hai film niente basta che riprendi la trota e vai ragazzo ma senza zoom senza niente questa c'è stata la parte di corrente che è incredibile no no non ti preoccupa dai a sfida ce la fai? ce la fai? no mi vedo su zenzuola ciao 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 Grazie a tutti